bambini indovinate chi c'è? si sono io Bob venite con me impariamo con Bob bambini sono Bob il treno dj e presentatore benvenuti al nostro show delle lettere i partecipanti a questo show sono le lettere dell'alfabeto inglese carino no? canteranno balleranno e ci insegneranno suoni che iniziano con le loro lettere ora facciamo un grande ciao e diamo il benvenuto ai nostri magnifici giudici siete pronti giudici? si Bob adesso un bel applauso per la nostra carissima Miss Kay cacca cacca così dirai quando incontrerai Miss Kay sai che cosa c'è in alto là che svolazza in libertà è tutto colorato un cacca kite un cacca cacca kite chi è che mi ha gola e se ne va in giro inseguendo un uccellino qua e là Ah, è un cacacacchiten, un cacacacchiten Quando arriva l'ora e vuoi farti un tè, metti a bollire l'acqua come me In un cacacacchetto, un cacacacchetto Che giganticchia su quell'albero là? Cosa pensate che sarà? È un cucucucucucabura, un cucucucucabura Sai che cos'è che un lucchetto può aprir? E caricar la sveglia tu me lo sai dir È una cacacacchì, cacacacchì Cos'è che sta saltellando qua e là? Non è una lepre che sarà È un cacacacchè kangaroo, un cacacangaroo Chi siede sul trono con la corona Ed è sposato con la regina Lui è il cacacacacca king Il cacacacacca king Bob e io amiamo star qui Perché voi tutti siete splendidi Noi vi amiamo cacacacca kids Vi amiamo cacacca kids È proprio vero cara mia Miss Kay Io dai bimbi non mi separerei Adesso che ne dite voi della giuria Di Miss Kay e della sua allegria Fantastica Informata Affascinante Brillante Grazie a Miss Kay e alla giuria Noi torniamo presto per altri dolci suoni delle lettere dell'alfabeto Per ora, adios! Bambini, riguardate il video e contate le parole che iniziano con la lettera dell'alfabeto di questo episodio E non scordate di scrivere la risposta nei commenti qui sotto Grazie